buongiorno ciao 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 belli eccoci qui dobbiamo modificare la scaletta ragazzi abbiamo già modificato abbiamo già modificato due cose lo faccio in diretta nazionale grazie manu show con questi inqualzoni sembra con i capelli strani giuro che no grazie manu le banane in pigiama non siamo noi si confusa le banane con me ci stanno anche bene banane in pigiama si arrotano sulle scale allora dobbiamo mettere ha convertuto l'abbonamento un grande mi raccomando se fate la conversione fate anche i sei mesi così risparmiate pure grazie seba se sapete che tanto rimanete da noi fate pure i sei mesi che ci risparmiate voi e noi guadagniamo comunque qui dobbiamo cancellare il martedì e il venerdì wow dal calendario proprio purtroppo ragazzi non ci sarà più il martedì il venerdì infatti non c'è più il martedì ultima puntata oggi ci sarà domani sei sono più in ordine w w w w ok questa sera facciamo w hai visto ci sono per caso qualche personaggio da pirla ho scaricato ieri notte marco ok ok durante la serata quindi ancora non l'ho aperto vedi se trovi qualche se c'è qualche personaggio pirla lo butti dentro ma che roba tipo ti ho detto anche spider man tipo butta dentro gente a caso facciamo una battle royale stupida oggi pomeriggio ci guardo chi c'è w stasera e venerdì poker stars ragazzi non è vero non è poker stars io ho scoperto che a fine mese perderò il lavoro no seba no seba no vabbè non è che devi trovarlo per pagare a noi la sapra no no è brutto il resto no mi dispiace molto ma spero che spero che troverai di meglio sinceramente allora lo rimetto nella tuttosità uuuuuh limina non rimetto su annunci su discord così scaletta sempre presente sempre modificata grazie zio marco per l'anno bentornato per questo dodicesimo mese grazie mille bello voilà lo zio bro eh finalmente live casino venerdì esatto esatto ci si scommettono i soldi veri basta crederci poi su balatro per vincere ieri sera l'ho comprato l'ho giocato e non si poteva più andare a letto quindi grazie grazie ovviamente se arriviamo a mille cinque ragazzi intanto si aprono due uova durante la dodice io ce le ho già lì anch'io io non lo devo prendere ancora vedrò devo decidere quali può endere ma non io ho preso comunque disney io direi disney e star facciamo quell'oretta ecco qua facciamo quell'oretta in cui apriamo le uova di pasqua ma un'ora mi sembra un po' troppo e apro anche le carte così ci facciamo l'oretta tranquilla sì tanto le uova faremo più o meno sì le uova sono da 20 minuti c'è due uova che hai fatto Alice vabbè l'avete fatto bene per carità di dio però ecco sì l'avete fatto bene nessuno ha preso quello di dragon potresti prendere quello di dragon a me non c'era quello di dragon se non l'avrei preso voglio quella di non c'è quella di me contro te c'è quella di quelli nuovi sì che io cringio io non ce la posso fare ogni tanto mi capitano quando vado nei genitori di franci ma sono imbarazzanti con tutto l'affetto ve lo dico amici bellissimi non faccio neanche i nomi non so come vi chiamate veramente imbarazzanti sì sì e basta dire per bambini perché mi incazzo quando dite ste cose perché no perché non c'entra niente quelli sono per bambini sì sì ma non c'entra niente che sia per bambini sono veramente robe ridicole vabbè che vuol dire e cosa c'era dentro scusa una spilla no 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 le uova dico il programma le uova le uova vabbè le uova mettono dentro le uova da uova cosa fanno fanno vabbè comunque non importa non ho voglia di parlare di loro sono delle cose imbarazzantissime non so ma non so neanche come si chiama non faccio neanche il nome tanto non ho senso ben ritrovati così mi viene bene eh questo rende non so Marco come posizione sicuro come resa un po' meno secondo me ci provo faccio il mio meglio che devo fare amici dopo c'è il marchedia rimanete sintonizzati no vediamo la campagna vediamo la campagna poi vediamo si fa in campagna bello vado a fare lavori pesanti adesso che sono in forma si beh io sono in forma a parte il dito è un po' debilitato però e il cervello e il corpo e tutto il resto a parte questo insomma sono abbastanza in forma un bomber il nostro capo ragazzi ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere subito cosa succede nel mondo e allora fammi tricchettare tutto qua con il coltello una svastica dei baffi di hitler ma dove hai sbagliato discord no ecco qua ah è vero confermo cioè sia una svastica che i baffi di hitler ma partiamo però con entrambi i piloti si addormentano per 28 minuti volo va fuori rotta dramma sfiorato per 153 passaggieri non sono l'isana almadia porca vacca ma poi entrambi c'è quanti probabilità da quello che hanno intervistato la gente ci succede più spesso di quanto è spesso è male malissimo vabbè ha fatto il power nappino e che non dovrebbero farlo entrambi no l'hanno proprio sono proprio addormentato i due sono stati ovviamente sospesi nel rapporto pubblicato dalle autorità indonesiane si legge infatti che il pilota la notte prima del volo notturno su Kendari era andato a letto intorno alle 19 ma si era svegliato a più riprese per aiutare la moglie con i figli e i due gemelle di un mese quindi era stato sveglio per i bimbi e non aveva dormito però ovviamente dicono che il volo poi è atterrato senza problemi hanno rischiato chiaramente hanno rischiato di perdere la coincidenza più che altro anche qui la giustificazione era di uno l'altro non si sa con i treni mica ce la prendiamo così tanto comunque perché non rischi di precipitare vabbè ma anche qui hanno rischiato di precipitare no hanno rischiato di colpire altri aeree perché questo qua non risponde il volo è andato fuori rotta comunque sia quindi sono cagati veramente veramente tanto difficile colpire un altro aereo se non impossibile ma non basta colpirlo basta anche passarci abbastanza vicino l'effetto dell'onda dell'aria ha già dimostrato che ha causato incidenti sì ma al passarsi comunque vicino in alcune zone del mondo dove il passaggio obbligato lì sono molto vicini quindi se magari è successo in quel momento grazie Bodo no era già il primo Bodo se si è addormentato credo che di conseguenza ha sbagliato completamente ad andare dove doveva andare e non non credo ci sia qualcuno infatti ha sfiorato il dramma non credo centri niente con incidenti o robe del genere ma con dove cazzo vai dovevo atterrare qui poteva succedere qualsiasi cosa perché poteva andare giù l'aereo poteva girarsi poteva succedere un sacco di cose e loro non sarebbero stati pronti ecco l'avrebbero fatto al pelo in ogni caso è normale che sono stati sospesi è comunque grave la situazione poteva succedere casino fortunatamente secondo me il problema principale era quello del carburante ma il carburante non più o meno perché se magari non riesci a arrivare perché cambiando rotta non riesci a arrivare al tuo destino o alla tua destinazione fai un attenaggio d'emergenza nell'aeroporto prima a meno che erano sull'oceano quindi la rotta era quella per forza lì allora lì sì che è un problema beh non penso cioè se si sono addormati per 28 minuti non potevano essere finiti no no 28 minuti non c'è scritto nel mezzo dell'oceano pacifico ma poi scusami 28 minuti nell'articolo non c'è scritto diceva che aveva 28 anni lui eh lo so ma in realtà perché dico il 28enne si è invece addormentato dicono 28 minuti l'hanno cronometrati proprio ma magari non ha risposto alla radio per 28 minuti ma magari se l'ha addormentato prima è proprio particolare che abbiano detto 28 minuti è un po' strano come fanno a saperlo magari l'hanno contattato l'hanno dormito esattamente 28 minuti non lo diresti secondo me l'hanno contattati poi da lì sono partiti 28 minuti poi si sono svegliati magari dormivano già da un'ora secondo me non gli hanno risposto per 28 minuti esatto secondo me ma perché a meno che non c'erano la telecamera che ne so io magari c'erano la telecamera la scatola nera non credo registri il pisolino no registrano no sì registrano le conversazioni tra i piloti se non hanno mai parlato per 28 minuti vabbè però sì però non è non è che ti registrano per l'esattezza quando dormi no però possono calcolarlo magari hanno parlato per 28 poi dopo per mezz'ora non hanno parlato allora vedi il sospetto però non è che ti registra il pisolino ma oddio se uno russa sì se uno russa forte si sente chiaramente però non è non capisci l'esatto pisolino beh no magari c'è un pokemon sleep sì dalla scatola nera hanno beccato guarda che dalla scatola nera hanno beccato anche robe più specifiche la scatola nera registra tutto in realtà anche uno che dorme chiaramente non puoi dire esattamente da qua piuttosto magari c'è la telecamera la telecamera no non so anche io sapevo di no sono due scatole nere uno per la telemetria delle cose e uno proprio per le comunicazioni ma serve più la telecamera anche io mi ricordavo cioè non ricordo la telecamera non c'è se sono riprese sono riprese da uno che era dentro la cabina sì non l'hanno tutte anche le cose di incidenti che ho visto il programma così mai o magari non le fanno vedere per farle vedere non lo so sì o per privacy non è che le devono mettere su youtube poi no quando fanno anche la ricostruzione degli incidenti sai quei programmi mi sembra una cosa utilissima perché non mettere perché vai a capire magari ci sono tante anche perché poi devi vedere anche cose per le leggi nazionali perché comunque tutti gli aerei dovrebbero averlo comunque tante compagnie quindi la registrazione della voce è un contro registrazione video è un'altra e se tu passi una frontiera di una nazione che non vuole che registri è un casino poi perché devi stare lì non lo so secondo me c'entra con le leggi dove stai cioè non lo so secondo me è una roba più complessa di quella che pensiamo per la telecamera però sono così esperto per motivi di sicurezza però pochi non ho visti pochi ma perché mi sembra una roba stagliente logica perché cazzo dovrebbe io non ho mai visto una telecamera la registrazione dei suoni e non di tutto visto che la telecamera c'è il video ti prende anche il suono in più c'hai anche il video per vedere cosa cazzo sta succedendo invece no il suono così almeno devi stare ma Marker in realtà in realtà se vai a vedere la se voi andate a vedere l'interferenza che fanno alcuni aggeggi tecnologici non è così grave da è stato comprovato che non è che manda via l'aereo lo si fa per precauzione anche il fatto del modalità aereo nei telefoni non serve a un cazzo non serve a nulla no no ma infatti nel senso però si chiama modalità aereo che fai per sicurezza grazie Frazzo sono tibettini fa vedere ah si guarda che c'è sempre tangia cazzo quello lì è il meno si chiama modalità aereo ma comunque non serve a un cazzo comunque a quanto pare il nostro amato televideo che non apro da quando avevo 8 anni probabilmente ha segnato ma guarda non saprei una specifica in ogni caso il film di Garrone io capitano è stato nella descrizione c'era scritto che era ispirato alla vita del capitano schettino ovviamente non è mai vera questa cosa non è assolutamente vera allora io capisco anche chi ha scritto nel televideo ma te l'hai inventato ma si te l'hai inventato totalmente ma l'avrà scritto per me madre tanto che cazzo il televideo ma chi cazzo lo va a leggere no guarda i miei parenti quelli un po' più in là con l'età lo fanno guardano ancora eh ma è giusto io davvero non lo guardo da forse mi si è aperto per sbaglio negli ultimi dieci anni non lo so un paio di volte ma non ma va bene va bene così va bene non se si usi ancora il televideo che cazzo te ne frega diciamo che la guida la trovi easy non dal televideo poi Donald Trump shock Hitler ha fatto anche delle cose buone il debole per Putin e l'ammirazione vabbè ragazzi l'ha detta veramente ragazzi ha fatto un bel disegno magari come al solito magari anche una frase decontestualizzata ha fatto un bel dipinto Trump potrebbe averlo detto veramente dal fantastico Viktor Orban al brillante Xi Jinping fino al buon Vladimir Putin non è segreto che Donald Trump non tornasse alla Casa Bianca ha detto che lo considerava un tipo tosto e per questo lo ammirava no aspetta di questo parlava di un altro ha detto che semplicemente ha ricostruito l'economia della Germania ha detto a Hitler invidiava tra l'altro la lealtà dei suoi generali e il fatto che li tenesse in pugno c'è un sacco di gente che cazzo vuol dire è veramente ma quando c'era lui sì sì anche l'ex presidente aveva ovviamente subito preso le distanze non cambia sostenendo di non aver mai avuto discorsi del Führer sul comodino e di non aver mai letto il main camp no no non ci sono spazi di manovra qui ha ricostruito anche la cosa della Germania ma ha ucciso milioni di persone cioè non è che cambia la situazione non c'è motivo di ammirarlo signor Trump ma d'altronde magari ha fatto un bel disegno nel periodo da pittore ha fatto un disegno che lo ha colpito ma in ogni caso no certo certo non lo so sto ovviamente scherzando però non so però Hitler ha avuto un buon gusto per la moda però i bassi vanno i bassi effettinati da Dio cazzi non sono tuo padre tanti anziani in Italia reputo Mussolini una brava persona proprio per quello perché ha risollevato tra virgolette l'economia italiana o ha fatto le cose famose certo purtroppo ormai la gente oh Dio c'è tanta anche gente nuova che pensa a questo tanta gente tra virgolette giovane che pensa a questo esatto a distruire il peggior sterminatore degli umani però ha fatto un disegno però ha risolto la fame del mondo distruggendo il popolo vabbè insetti nelle mense scolastiche l'azienda di ristorazione l'azienda di ristorazione il coleottero faceva parte degli ingredienti genitori rivolto vabbè solita discussione che c'è stata ultimamente sempre per gli insetti c'è milano non li vuole assolutamente io voglio provarli loro li hanno così e io per andare a vedere dove sono non li trovo dove cazzo si trova basta di cerchi cioè la farina di insetti e robe le persone si trovano ma no la farina di insetti è che se ne frega è troppo banale vabbè quello anche quello li trovi più che la farina di insetti non li ho mai trovati ah cazzo tra l'altro dove li hanno trovati basta che cerchi su google ma no li voglio in un supermercato il supermercato è tosta ma neanche loro li andranno trovati nel supermercato li hanno trovati i coleottero all'ingrosso da qualche parte tra l'altro non era farina niente era proprio ma poi era un frammento di coleottero manco ma scusami non è che gli è andato a mangiare vabbè un frammento di insetto appartenente all'ordine delle coleottero l'hanno trovato dentro dove? dentro il brodo eh sì è chiaro cioè nella minestra ho visto scusami eh il bambino avrebbe detto ma c'è una caccola qui maestra andrà a vedere c'era l'insetto gli avrà fatto la battuta eh sì fa parte degli ingredienti cioè io sarei più ecco prima poco tempo prima hanno trovato dei frammenti di plastica ecco mi incazzerei più per i frammenti di plastica con le otto per carità hanno fatto un esempio che mi ha fatto ridere chiunque se trovasse un insetto nel piatto di ristorante non tornerebbe più in quel locale i bambini invece non hanno scelta per la messa sì ma non c'entra niente non è che è cascato mentre volava un'ape e gli è caduta nella pasta al sugo e hanno fatto proprio una ricetta no non era una ricetta no beh comunque è accaduto nella minestra sì però nel senso non è che l'ape che stava volando gli è caduta nel piatto di pasta no ma non era un'ape era una cosa vabbè era un pezzo di di insetto comunque cioè probabilmente è entrato un insetto nel brodo e mentre l'hanno cucinavano il brodo si è sciolto tutto è rimasta la zampetta che si vedeva sì vabbè quello vabbè può succedere però l'ha mangiato comunque perché l'ha sciolto di sciolto nel brodo quindi ormai l'ha mangiato ma tanto sono senza ossa che te frega butta giù con proteine Berggriss diceva sempre che sono però sì comunque sembra da mensa che sta avvelenando questi poveri bambini probabilmente è ancora vivo Berggriss sì c'ha 50 anni ci sono stati anche altri episodi che hanno costretto a sostituire il pane con i grissini ma come era scritto nel titolo pensavo che fosse proprio una roba in grossa scala c'è c'è su un incidente e che semplicemente non è la prima volta i genitori si lamentano che sta mensa fa cagare semplicemente andando a mangiare la merda i figli che non controlla niente cioè se c'è un insetto così che non mi ce l'hai messo tu vuol dire te pensi alle condizioni igieniche della cucina vabbè chiaro che una domanda te la fai per l'amor di D poi se è stato un caso e basta te lo mangi so proteine quanta merda c'è capitolo di mettere in bocca da piccoli si ok stavamo facendo trasmissione esatto vorrei comunque di controllare le cucinazioni di quella mensa che quanto pare è stato lunghissimo sto articolo perché le scuse del sindaco ma non credo fosse la stessa Luca cioè è possibilissimo che hanno trovato una blatta da qualche parte però non credo fosse lo stesso lo stesso chissà anche quante ce le sono che le abbiamo mangiate senza manco accorgersi quello probabilissimo di blatte spero di no blatte te le accorgi residui di insetti a moglie però sì anche solo con l'insalata ti mangi il verme che non te le accorgi comunque i giovani che si fanno pagare 15 euro all'ora per fare compagnia ai loro coetanei andare al cinema fare sport un viaggio ma vado anch'io scusa è un nuovo lavoro chi è che stava perdendo il lavoro prima se l'ha perso va a fare questo se lo volessi fare tu a lui ha perso il lavoro difficilmente riesce a pagare va a fare questo lavoro lo sei fai domanda noi lo stiamo effettivamente facendo stiamo facendo compagnia ci fate la sub e noi facciamo compagnia e prendiamo molto meno però esatto esatto si fa anche il sesso non lo so questo non è non credo siano delle escort non c'è scritto compagnia c'è scritto ogni progetto si trovi fare 15 a testa forse lì sarebbe 15 per comu bello tra l'altro mi è venuto in mente perché una roba asiatica ieri ho visto un tweet di questo video di scuole non lo so da che parte dell'Asia se Giappone o dove che ci hanno tipo scuola elementare credo l'equivalente alla scuola elementare ci hanno l'ora del pisolino no? si io la facevo però c'avevano tipo i banchi che loro si cosavano si piegavano in avanti si tirava giù lo schienale si apriva il cuscino e si sdraiavano tutti quanti in Giappone ho visto il video così in Giappone io dovevo dormire di nascosto ragazzi alla materna avevamo la stanza del pisolino c'era proprio la stanza con i lettini mi ricordo ancora tutto qui si parla di elementare e medie però medie non lo so elementari c'era sicuramente elementare ho visto video anche delle medie superiori non credo però mi è capitato forse di appisolarmi per qualche minuto a scuola mi è capitato non tanto tempo però mi è capitato di fare qualche episodio io ho un'oretta un'oretta se ne accorgevano da me 100% ma io ero veramente stealth però all'asilo vabbè all'asilo c'era proprio l'ora del pisolino andavamo in questa stanza che io mi ricordo tutto non so come è possibile mi ricordo la stanza le vetrate tutte mezze blu mezze bianche tutti i disegni mi ricordo ancora tutto quanto io ovviamente non dormivo quasi mai perché preso dal fatto che giocavamo in classe eccetera non è che mi veniva da dormire quindi alla fine stavo sempre sveglio a contemplare ma fai essere stealth è più stealth di dormire basta non russare sei stealth io dell'asilo mi ricordo un sacco di cose tantissimo mi ricordo anche il mio armadietto che era con il gelato che aveva tre palline una rosa una verde e una bianca proprio il mio simbolo ognuno aveva il suo simbolo io ero il gelato mi ricordo anche il primo libro che ho letto che lo avevo preso in biblioteca ed è un libro che si chiama scuola foresta che prima o poi lo ordino su ebay voglio esattamente l'edizione che avevo io per ricordarmi la mia prima lettura proprio al libro e tra l'altro lì si capisce anche è strano però da come da quello che c'era in questo libro capisci poi la mia passione per i fumetti per la caratterizzazione dei personaggi perché è veramente quello era una classe in cui ti spiegava ogni personaggio ogni animale che era in questa classe che cosa aveva le sue peculiarità come andava a scuola come si comportava i compagni era proprio quello che leggo adesso ma per i bambini il mio amico allo superiore si è addormentato a testa bassa con la bocca aperta e ha sbavato tutto per terra ma che schifo una pozza di bava io ero un ippopotamo rosa va bene Alice no io quelle cose imbarazzanti non le ho mai fatte tranne alla scuola no dici cagarmi addosso a queste cose qui no travestirmi nelle recite io ho fatto io ho fatto il prete sì ho fatto un sacco di cose ma il prete era una recita sì però non è un travestito non ti sei vestito da no ero il protagonista della recita sì ma non ti sei travestito da no da bottiglia ma io non è che sono questa memoria incredibile queste cose mi ricordo tutte questa me la ricordo tantissimo che abbiamo fatto anche i complimenti abbiamo dato anche un premio io ho fatto a noi non si facevano cioè si facevano le recite semplicemente facevi la recita senza travestirti io ho fatto il figo come vi avevo già detto che dovevo fare il figo che faceva innamorare le compagne di classe poi ho fatto il petti rosso dove non dicevo niente facevo dei versi ho fatto il guerriero con lo scudo dovevo picchiare un mio compagno di classe che ero la guardia cattiva quindi dovevo prenderlo strattonarlo spaccargli la faccia dargli calcio in culo poi ho fatto ah ho fatto un messicano cioè non ero un messicano era una danza sudamericana era una danza sudamericana e io avevo i baffetti i baffoni da Mario da Hitler no non ero da Hitler da Mario e dovevo ballare con le mie compagne con i miei compagni facevi strage di figa no no non c'entra niente sì era un po' Pedro Pascal sì effettivamente ho ancora le foto era molto Pedro Pascal e poi non so cosa stavamo facendo questa non me la ricordo io mi ricordo tutte le recite questa ho le foto quindi ho le foto e mi ricordo che mi che mi smanacciavano in faccia però non mi ricordo qual era la recita mi fecero la faccia metà nera e metà bianca tipo tifoso della Juventus o dell'Udinese ma non ricordo assolutamente qual era la recita cioè mi ricordo mi hanno fatto questa cosa mi ricordo loro che mi pitturano non ricordo assolutamente qual era la mia la mia parte in questa recita da zero ho solo le foto vedo che l'ho fatto mi ricordo mi pitturavano ma non mi ricordo niente grazie le uniche dove mi vesti cioè dove ci travestivamo erano i carnevali quelli fatti alla scuola elementare dove tutti si vestivano cioè c'era un carnevale dove eravamo tutti i bambini vestiti da albero di Natale no io ma carnevali mai fa e mi ricordo questo mio amico che era un po' quello sfigato della classe che era cioè eravano tutti vestiti d'albero di Natale con i buchi per le mani lui non ce li aveva ma scusami ma non era una recita ma siccome non ce li aveva stava dritto era era meglio praticamente cosa vuol dire cioè voi non facevate le recite ma facevate i vestiti di carnevale no era una specie non mi ricordo cosa si faceva mi ricordo che c'era la foto di classe in piazza vestiti tutti si tutti vestiti d'albero di Natale quindi forse la mezza recita quella era però era la scuola materna cioè che cazzo di recita no io queste cose che ti sto dicendo erano elementari cioè era un attimino più grande all'asilo non facevamo le recita all'asilo si giocava si facevano le cose le attività ricreative normali però non ho mai avuto a parte quella lì dove facevo il figo che parlavo tanto quasi tutto cioè ero proprio il protagonista non ho mai fatto recite in cui mi davano un ruolo che parlavo tantissimo solo quell'anno lì e l'anno lì ha detto ok ci serve tra l'altro fecero una cosa terribile che non vi dico misero ai voti vabbè fecero fare i voti non mi ricordo perché per fare questa roba qui questo mio ruolo misero ai voti no? gli fecero fare io non so se è una cosa che si può fare io ve la racconto vabbè non importa fecero fare dei bigliettini dovrei avere la foto anche io se le trovo sarebbe bello ritrovare le foto di quando e praticamente dissero ai miei compagni a noi tutti di scrivere nel bigliettino per ogni comando che davano le maestre di scrivere il nome di un del compagno quindi dicevano chi secondo voi è più leader ok chi secondo voi è quello un po' più simpatico chi secondo voi è quello un po' più non si fanno e no ma è una cosa infatti adesso io mi ricordo che l'abbiamo fatto ma non è che facevano domande scomode tipo il più brutto no erano tutte cose interessanti no? cioè nel senso magari a livello sociologico interessante non lo so e io vi riporto quello che mi ricordo e da questa votazione poi uscì fuori il ruolo per queste recite e io feci questa roba qua in cui dovevo cantare il romano con i capelli tutti pettinati da fighettino ma non ricordo magari non neanche collegate ma la mia mente si ricorda questa votazione e poi la scelta dei ruoli e io non mi ricordo siccome non venivo mai scelto per protagonista anche perché ero molto per i fatti miei io facevo sempre ridere tutti ma ero sempre per i fatti miei mi ricordo poi che ci fu la scelta dei ruoli quindi la mia testa ricollega a queste due cose magari non c'entrava niente boh magari sì no non ero il più figo perché non è che era il ruolo del figo poi facevo il figo per il ruolo che avevo ma non era non è che avevano scritto chi è il più bello e hanno messo il mio nome era una votazione generica perché non è che scrivano il più bello il più brutto non si fa erano cose generiche tipo il leader l'avevano detto io mi ricordo proprio secondo voi chi può essere un leader della classe e ognuno doveva mettere il suo nome non mi ricordo qual era la scelta finale ovviamente questo me lo ricordo leader la parola leader me la ricordo proprio però cioè lo dissero e ci fecero votare il leader o comunque c'era la maestra che spiegava perché tanti chiedono mi ricordano anche i miei compagni che dicevano cosa vuol dire leader e dicevano no quello che magari sai nei gruppi è quello che magari decide un po' più lui e scelsero ma non mi ricordo neanche chi chi venne fuori poi come nome zero però ci fu poi questa recita io feci questo tizio che parlava in romano fatece largo che passavamo noi c'erano tutte le mie compagne che si sdraiavano parterra quando passavano una roba cringissima c'era mia mamma che stava morendo da ridere ma è una roba veramente che non ha senso non so neanche perché anche come interpretazione non è perché fecero questa cosa qui non la farebbero mai adesso vabbè ecco perché la canti sempre la so tutta infatti quella canzone la so tutta forse perché mi è rimasta da quella recita lì come fecero ecco per esempio ci fecero cantare ogni compagno le canzoni delle varie regioni e io non feci la Calabria mi ricordo non so perché non mi feci mi chiesero ma la tua famiglia è tutta calabrese sì e mi diedero tipo la Sicilia non mi ricordo cosa feci io la Toscana non mi ricordo e vabbè quindi non feci neanche lì la Calabria anche se potevo farla tranquillamente vota sondaggio di che chi è il leader eh vota il sondaggio mi raccomando ma il predestinato di cosa non occhio che perdi la capital sembra ci sia un previscito qua due che hanno votato gli Ezzar li potremmo comunque anche chi ha votato me li andremo a ma ancora ma ancora sto sondaggio ma è sempre notare che stanno votando più per questa caccata che quando gli chiediamo poi le cose utili ci mancherebbe ci mancherebbe manca anche il yuk manca poi è tutto da rifare sto sondaggio interrompo il lurking per votare l'unico vero capo Sorcio guarda veramente allucinante pure tu eh comunque verranno perseguiti dalla legge chiaramente chi ha votato cosa vuol dire uno perché siamo pezzi e due qual è la la lista che mi stai dicendo scusa dove è iniziata la lista uno sicuramente non ci può essere quel numero di merda come ha fatto a premerlo non si sa e asciua asciua smettila allora andiamo in giapponese si ride così come aiaiaiaia in spagna possiamo passare la prossima tarance visto che l'ultima l'abbiamo già letta quindi momento Zos grandi sempre più bassi per metterti allora vediamo cosa c'è oggi c'è un provato di Rise of Runnings che andiamo subito a vedere si ho vinto io grazie molto ragazzi fammi andare a prendere il perfezione no quasi bellissimi jeans jeans infilati incisivi i denti blue jeans si grazie non con i denti con la texture blue jeans proprio dei blue jeans infilati nei denti se è possibile non ce la so va bene devo ruttare un attimo anch'io lo faccio ecco qua allora si è provato Rise of the Phineas vediamo un po' i pry controls di questo Rise of the Runnings più che pry e contro come al solito sono dubbi sì dubbi e certezze nel provato allora vorrei leggere anche il paragrafo finale vediamo un po' le prime due ore di Rise of the Runnings ci hanno lasciato in compagnia di non pochi dubbi se da una parte quella del mondo aperto sembra ormai divenuta l'evoluzione naturale per la maggior parte dei videogiochi da Zeons la sua compatibilità con la ricetta e soprattutto con le capacità del team ninja è ancora tutta da verificare nel senso che purtroppo non sono capace di fare videogiochi nel 2024 sono rimasti ancora il 2002 la tassa più pesante sembra senza dubbio quella imposta sui comparti tecnico e grafico che si presentano molto lontani dagli standard di questa generazione io ti assicuro multiplayer che non è quello il problema del team ninja cioè è anche un problema quello ma non è quello principale ma il punto di forza principale dello studio è sempre conciso con il sistema di combattimento che nel pieno rispetto della tradizione può vantare una profondità inaudita e un numero di opzioni esagerato che questo io in realtà lo metterei sempre di contro sarà sufficiente la sola voglia di gettarsi in battaglia per sorreggere un progetto tanto ambizioso non vediamo l'ora di scoprire se come gli sviluppatori abbiano lavorato per armonizzare l'enorme numero di meccaniche in gioco con un'ambientazione che per la prima volta dovrà dimostrarti strettanto convolgenza ha sbagliato tutto alla fine allora comunque hanno detto anche sopra che è una cosa che in realtà mi intriga molto ma purtroppo non sembra gioco per me anche Yokohama è fighissimo è fatta molto bene si vede che è molto ispirata che sono appassionati di quei panorami eccetera però purtroppo cioè magari poi cambio idea ma per ora non sembra proprio un gameplay che mi mi terrebbe lì sistema di combattimento profondo e stratificato tantissime opzioni di personalizzazione interessanti dal punto di vista storico dicono infatti mentre nei dubbi mondo aperto nello stile dei primissimi Assassin's Creed graficamente davvero arretrato che strana paragone cioè è un paragone strano Assassin's Creed i primi Assassin's Creed come open world si come struttura ma allora sono scusami i primi dipende come struttura non dell'open world nel senso che ha zone quindi no cosa c'è dentro l'open world ma che c'era in Assassin's Creed c'erano due o tre negozie due o tre banconi che vendevano cose non è che c'era in giro eh però non è che capisci che è una roba molto vecchia per farmi un paragone cioè non è una cosa positivissima infatti nei dubbi eh ok no perché io mi ricordo il primo lo toglierei perché era tutta un'altra roba il secondo credo che lo intenda dei primi della saga del due eh perché anche il secondo Assassin's Creed per quanto fosse aperto non è che ci avessi queste grandi cose nella mappa c'erano due banchetti che vendevano qualcosa di armature il tre già era un po' più forse Brotherhood no tu intendi proprio il tre o Brotherhood o il terzo o il tre perché il tre non mi ricordo bene Brotherhood già aveva qualcosina in più ma infatti non c'è bisogno ormai Francescozza di Dio ogni volta che arriva non c'è bisogno graficamente avvero elettrato tante imperfezioni tecniche bilanciamento ancora da valutare bilanciamento io do per scontato che non ci sia alcun tipo di bilanciamento in un gioco del team ninja ma vedremo comunque l'acqua non mi piace comunque se posso dire non mi fa impazzire ho visto delle dei momenti in acqua di combattimento sembra un po' statica però magari mi cambi l'idea ciao Memis come stai come va ciao Memina ho visto anche sto vedendo sto guardando anche al volo quando galoppa col cavallo dei momenti in cui affronti ecco questo mi fa strano per esempio ci sono dei momenti in cui cioè allora non credo ci siano creature particolari non lo so non mi ricordo se facevano vedere delle creature particolari però sto vedendo una specie di mini boss fight e tu sei un uomo normale sarai alto 1,80 insomma l'altezza a me 1,70 1,80 e combatti a volte contro uomini di 3 metri che mi fa strano perché dici ok quindi è un fantasy non è un fantasy eh no quello mi chiedevo quello mi chiedevo io per scontato che non sia perché combatti sto vedendo cioè quest'uomo è grande come la casa davanti è un po' è particolare beh vittor non lo so cioè non è non credo sia fantasy del genere di wukong o nio con gli ioni demoni perché non mi ricordo esatto non mi ricordo demoni o cose però io secondo me cioè è già stato detto che sarà storico e non fantasy proprio questo non lo so perché già se ci sono giganti per carità è proprio un uomo tanto grande beh ci sono stati sì ma è quasi il doppio sì sì magari ma come anche su Sekiro o su sono fantasy però c'erano tipo i gigantoni quelli tutti un po' stupidi eh no mi sembra proprio cioè è un uomo che credo siano siano esistiti e siano stati usati in esatto c'erano stati gente del genere usati in guerra tre metri non lo so zancos grazie zancos sì no ma infatti pocket va benissimo non è una critica era per cercare di inquadrarlo perché io vedo grosso modo nel trailer che sto vedendo nel provato che sto vedendo combatte contro uomini e samurai abbastanza normali e poi è capitato questo gigante con una mazza terrificante ho detto eh madonna quindi stavo cercando di inquadrarlo nella mia testa però va benissimo prendersi delle libertà stilistiche anzi rendi magari anche più interessante il discorso chiaramente se mi immagino un mondo lineare mi fa strano poi vedere un gigante nel mondo nostro quindi probabilmente sì è un mix va benissimo non è una critica allora si sta parlando di rise of ronin sì è uscito un video comunque a multiplayer ha fatto uscire anche il video su youtube in cui c'è il provato e diciamo la mini recensione sì poi deve uscire allora intanto di steam deck oltre 14.000 i giochi che sono ora compatibili del portale valve che credo non so se intendono ok di cui 14.000 giochi ok come visibile ammonta 14.023 titoli tra i quali 4.600 sono verificati da valve quindi quelli con la spunta verde e gli altri 9.400 invece risultano giocabili che significa che sono compatibili uguale praticamente di solito quando sono quelli con la spunta gialla in sostanza che di solito tipo c'è da aprire la tastiera virtuale per mettere il nome del personaggio all'inizio solitamente è quello il non spunta verde quindi sono veramente molti 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 rise of fronin te lo dico subito Gianluca mi ricordo assolutamente niente il 22 marzo insieme a princess peach e dragon's dogma è vero è vero che l'avevamo detto poi sta per arrivare su modern warfare 3 warzone warhammer 40.000 quanto pare non ho capito la notizia in che senso la mappa no credo qualche skin sempre le solite robe c'è una collaborazione con warhammer sarà poi è stato rivelato per errore da google il pixel 8a che è la versione entry level non mi ricordo dove siamo grazie ciper il nome non esiste ancora ora mi fanno durante il dottorato dai ciper un abbraccio bello eh sì tanti complici vabbè non mi interessa troppo delle specifiche del pixel 8a destiny 2 x ghostbuster beh in realtà pixel 8a è un'ottima scelta sì sì non mi interessa troppo delle specifiche però per chi dovesse comprare un telefono nuovo l'8a come lo era il 7a grazie seban andrà a vedere i denti blue jeans grazie era proprio quello che volevo comunque sì destiny 2 farà una collaborazione con ghostbuster sì eh sì hanno fatto anche il tweet molto molto per niente terribile come cosa beh non ce li vedo ecco per l'onda per il film di cosa stai parlando ti del pixel dell'8a no viene aggiornato identico ai pixel forse per meno anni no no 7 anni i pixel vengono aggiornati tutti uguali essendo i telefoni essendo i telefoni di google ma comunque ma anche se fosse 5 anni anziché 7 5 anni sono comunque anzi in realtà verrà aggiornato anche di più visto che esce dopo rispetto al all'8a esce dopo il 7a l'ho dovuto cambiare proprio perché l'aggiornamento di sicurezza non era più supportato ma come è possibile 7a è uscito l'anno scorso ma 7a è uscito l'anno scorso ma è uscito l'anno scorso come fa se è durato 3 anni ma è uscito l'anno scorso ma ti stai confondendo con qualche altro telefono mi sa però esatto cioè i pixel sono quelli di google non possono non essere più supportati e infatti anche da Luca ha 5 anni se ha poi è possibile durato 3 anni se ha un anno di vita c'è qualcosa che non va eh sì se cosa me ti confondi con un'altra roba ma proprio per una questione di uscite perché 3 anni si è uscito l'anno scorso o 2 anni fa quando è uscito insomma comunque Monster Hunter World ha raggiunto un altro traguardo 25 milioni di copie vendute veramente una roba incredibile ragazzi è flebile umano grazie mille come flebile merda quando avevo chiamato Vector flebile merda tra l'altro i nuovi pixel c'hanno anche era un A e mi usciva l'avviso ve lo assicuro allora se è un A ma è un pixel se è un A cioè o il 4A però è quello perché è vecchio a parte che cioè quelli nuovi c'hanno un'assicurazione di aggiornamenti infatti non è che era un Samsung a 7 cioè sei sicuro fosse un pixel di Google un Google pixel perché mi fa veramente cioè addirittura quelli nuovi devono essere aggiornati per quanti anni non mi ricordo l'hanno detto 18 mila anni simile un pixel amici io ho una domanda di sicurezza quindi cioè Gianluca ha 5 anni ancora viene aggiornato il suo però ragionano fino al 4 figurati 7 ma poi non è possibile 7 è uscito l'anno scorso quindi non è possibile capo la gente rotta dici Marco no allora perché è uscita la classifica ok no e c'è tutta la classifica e c'è scritto che WWE attualmente è al primo posto sì ma non c'è scritto però in tutto l'articolo se è dell'ultimo mese dell'ultima settimana non ho capito forse è di settimana ok allora sì al primo posto c'è WWE 2K eh facciamo stasera se è preso nel 2019 2020 non è il pixel 7a ciao Agosto no nel pixel 7a nel 2020 2019 2020 allora che strana sta roba comunque 8 2023 7 2022 dovrebbe essere il 4 5 2021 no 6 2021 il 4 2020 sì sì ma il fatto che sia usato non cambia niente ragazzi cioè se è usato comunque il 4a deve essere Galaxy A7 dice Luca Folle no ha detto un pixel era eh però cosa è confuso T-Wat enormemente non so se 4a adesso non so ai tempi non c'erano robe di anche garanzia di aggiornamenti e robe del genere mi fa comunque strano eh esatto poi che ti esce che ti esce fuori anche che ti esce fuori anche l'avviso che non il rosso che non è più l'aggiornamento sarà il 4 no il 7 non può essere il 2019 era il 4 per forza era anche perché il 5a è uscito l'anno dopo il 5 quindi 2021 quindi non lo so vabbè comunque quelli di Starossian sono soddisfatti delle recensioni ci mancherebbe andate tutti in capolavoro Starossian io devo giocarlo è quello molto figo allora il 3a posso che capire Starossian si si lo conosci prima i pixel non era neanche chissà che roba sembra sembra proprio bello solo che non c'è in italiano ancora purtroppo Starossian quindi non lo posso lo faccio lo faccio dov'è caro Termoracolo riuscirà si è dicono tutti che è fighissimo riuscirà il mio passaporto ad arrivare entro il 19 così che io possa partire per ok rosso di sera mamma che pena Terlax vai non fare come me come mi era successo qualche anno fa che non mi è arrivato perché adesso puoi fare la richiesta d'urgenza se hai il biglietto pagato e porti la prova del biglietto pagato anche per turismo ti fanno la richiesta d'urgenza del passaporto Starossian quello del 96 è un po' troppo tardi ancora adesso è quello del 2023 amoro cioè adesso è uscito nel 2023 però anche adesso per il 19 è tardi anche io mi ricordo che era un gioco rifatto però magari ci ricordiamo male però sì di conto di che è molto figo c'è andato proprio tante tante addirittura c'è le 2000 recensioni sono su estremamente positiva solo che se no invece c'è l'italiano ho detto una scemenza chiedo scusa c'è l'italiano su Starossian però questo qua prima o poi mi piacerebbe giocarlo mi piacerebbe tanto giocarlo questo qui è proprio un gioco che sono sicuro che nelle mie core se fosse CEO Stars anche quello capolavoro comunque dicono tutti CEO Star pure quello quello lì effettivamente non c'è in italiano quello sicuramente quello non c'è quello sicuramente non c'è in italiano è quello di conto di che è fighissimo ma purtroppo anche lì aspetto la uscita per bene in italiano se mai si sa poi ho le notizie di Luco se non le troviamo però qua sotto sì stavo ancora guardando giù lo so Justin me l'hanno detto tutti ma preferisco comunque aspettare tanto non ho freddo buongiorno di lavoro che strano ah quindi è fine mese Sebar ciao Sebar va bene spero che trovi qualcosa allora disponibile su Game Pass NBA 2K24 sì 24 ma è lucky si stanno facendo uscire un botto di notizie di Stellar Blade ma quando è che deve uscire questo Stellar Blade deve uscire tra poco ieri ho fatto tutto con l'urgenza biglietto tele mi hanno detto che in teoria il 19 dovrebbe esserci perché con la mia start up e me l'hai saputo al luglio forse era meglio magari farlo un pochino prima però speriamo che te lo diano non c'è bisogno non c'è bisogno io devo andare a lavorare a recuperare ciao ciao buon lavoro io da persona 3 vorrei recuperare Final Fantasy 7 ah stai facendo i recuperoni di JRPG oddio Final Fantasy 7 ma quello nuovo dici mi si immagina beh sì Final Fantasy 16 invece versione PC nelle fasi finali dell'ottimizzazione forse demo in arrivo è stato un anno eh sì quello per PC è stato un anno è stato sì di Milano di Milano Milano già cantando un attimo le mie canzoni preferite Dragon's Dogme è disponibile nel pre-download su Xbox di 70 giga tra l'altro è una notizia poi di non è molto grosso rispetto ad altri AAA che cazzo vuol dire 70 giga è in linea ci sono certo lo paragoni a Final Fantasy che ne pesa 150 sì però è più o meno in linea smetti in amore voi nessuno c'è la tua email poi c'è Naoki Yoshida che vuole dirigere un altro grosso gioco che Naoki Yoshida è stato il director di Final Fantasy 16 speriamo tenga le mani a posto tutto il rispetto però e poi poi leggimi quella di Luca mi collego a Dragon's Dogme intanto perché a quanto pare la modalità multigiocatore non è mai stata considerata e non verrà aggiunta in futuro secondo a me piace piace proprio la modalità multigiocatore che c'è invece cioè il multiplayer che c'è nel senso che su Dragon's Dogme tu hai il tuo personaggio e la tua pedina che è il tuo compagno di viaggio e gli altri giocatori possono dalle faglie possono arruolare nel loro team delle pedine di altri giocatori io avevo arruolato gente ed è molto figa quella cosa soprattutto per come l'hanno ampliata nel 2 che mi dicevano che cioè tu se arruoli tipo tu Marco c'hai la tua pedina e fai una determinata missione io devo andare a fare quella missione arruolo la tua pedina che ha già fatto quella missione sì 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 mi darà dei suggerimenti o mi dirà guarda qua c'è un tesoro se vuoi te lo vado a prendere io che lo so già dov'è è una cosa fighissima quella lì è figo eh quella è una cosa molto fia sarà più importante fare la la pedina che il personaggio principale anche nel primo era così io mi ricordo io mi ricordo che c'era la gente che mi mandava le foto che aveva preso il mio arcere e mi mandava le foto guarda Marco sei qui vedi la lista amici era molto figa quella cosa lì chiaramente nel 2 sarà migliorata immagino era molto figo comunque cioè nel primo appunto anch'io mi ricordavo fosse più o meno così probabilmente l'hanno migliorata semplicemente comunque poi abbiamo El Salvador che è il lutto nazionale per la morte di Torriamo l'avevamo già letto ma non credo fosse El Salvador forse era un'altra nazione che non mi ricordo che era El Salvador vabbè comunque poco importe cioè poco importe è figo però lutto nazionale beh ma l'hanno fatto l'hanno fatto in pareti poi abbiamo Dark Souls 3 Ark Thrones la mod prequel arriva a marzo con una demo giocabile Multiversus esce il 28 maggio annunciato il ritorno del picchiaduro gratuito con tanti nuovi contenuti l'abbiamo detto che anche su Twitter stanno provando a rilanciare il picchiaduro che a me era piaciuto da morire per la prima settimana come avevo detto poi basta Ghost Recon il prossimo gioco della serie dovrebbe uscire nel 2025 2026 e potrebbe essere in prima persona dicono mi sa poi se è vero gli altri erano in terza ovviamente poi in realtà erano in terza ma quando miravi c'era la possibilità di passare in prima persona per alcune armi quindi in realtà vedremo comunque sia e in realtà basta non ci sono tante notizie anche da l'U va bene allora Marco ah il director non è Yoshida quindi ah no è il producer Yoshida il director è Hiroshi Takai Kazutoyo My Hero quanti nomi ha? è tutto un nome quello si è Takai si si è tutta la si vabbè comunque si non è non è chi d'altro in ogni caso sicuro si tiene lui come director probabilmente visto che è il team del 14 però vabbè Almanacami allora partiamo subito con nel 1913 si tiene la cerimonia di assegnazione del nome Canberra alla città che sta venendo costruita in Australia nel 1922 in Italia si celebra per la prima volta la giornata internazionale della donna nel 1923 Lee DeForest che si dica così tiene la prima dimostrazione del suo sistema per l'aggiunta di suoni ad una pellicola cinematografica il cosiddetto fonofilm nel 1974 Wonder Woman debutta in tv con un film ispirato al fumetto la prima attrice ad impersonare l'eroina è Kylie Crosby e poi nel 1989 il ricercatore Tim Barn Berner Lee che lo sia giusto boh presenta al CERN la proposta per iniziare una ricerca con lo scopo di sviluppare un sistema di gestione delle informazioni si tratta del primo passo che porterà alla nascita di internet ovviamente in ati oggi abbiamo il grande Gianni Agnelli grande per la Juventus ovviamente non parlo dei cosi imprenditoriali perché non ne so niente comunque c'è la Fiat di me si ha fatto tante robe anche per quelli avrebbe avuto 103 anni oggi chiaramente se glielo avrei augurati ma era difficile nel 1946 abbiamo Lisa Minelli che è un'attrice premio Oscar del cabaret che è ancora viva 78 anni abbiamo nel 1969 Giuseppe Fiorello attore anche lui e fratello di Rosario nel 1975 abbiamo Sara Ventura che ho conosciuto di persona a una partita del Cervia ai tempi di campioni che fa 49 anni e nel 1975 sempre 49 anni Vittoria Cabello che insomma sapete tutti immagino una conduttrice televisiva andiamo col proverbio del 12 marzo che è il vino per gli amanti il miele per gli sposi va bene e le giornate non c'è scritto ma immagino perché il miele è più la passione il miele è più l'amore poi abbiamo le giornate abbiamo la giornata di Alfred Hitchcock la giornata nazionale delle capesante arroste arroste giornata c'è scritto arroste io riporto quello che ha scritto Luke giornata nazionale del piantare un fiore giornata nazionale delle madri lavoratrici e giornata mondiale contro la cyber censura la curiosità di oggi del 12 marzo è che i ricercatori hanno scoperto che i delfini usano i loro fischi per identificarsi in modo diverso l'uni dagli altri reagiscono in modo diverso a dei fischi prodotti quindi proprio come se stessero chiamando dei nomi ogni fischio è per una persona e ha un significato particolare è una cosa molto figa ovviamente dicono spesso che i delfini sono molto simili a noi per tante cose ci sta non mi stupisce più di tanto forse l'avevo già letta anzi questa cosa qui andiamo con la rassegna buba oggi è tutto corto allora innanzitutto partiamo con una delle domande che ci siamo fatti tutti sicuramente durante la notte degli oscar ovvero ma John Cena era davvero nudo la risposta è no aveva delle mutande color card molto piccole c'è anche una foto che lo ritrae mentre parla con le agenti dietro le quinte mi sembra anche un perizoma molto piccolo sì sì ovviamente ovviamente ecco svelato il trucco dice TG Com ma insomma il trucco delle mie palle in tutti i sensi cioè le sue palle abbiamo poi Belè Rodriguez che dopo 13 anni compra effettivamente casa quindi non è in affitto perché ha messo delle foto su Instagram in cui fa vedere tutte le stanze e la diciamo il lavoro per la casa nuova cosa ha scritto Irene vabbè andiamo avanti con Matteo Berrettini che post Melissa Santa è stato visto con una bionda che sembrerebbe essere Federica Lelli che è la ex di ultimo che in giro cosa vuole scrivere Irene sono curioso perché le sue ueco non so credo sia una marca sta sponsorizzando qualcosa mi sa che va bannata bannatemi Irene per favore comunque appunto è stata vista con questa bionda che dovrebbe essere la ex di ultimo andiamo avanti con Muschio Selvaggio che effettivamente vabbè il titolo di Tgcom è Muschio Selvaggio chiama la mamma e l'avvocato ma non c'entra niente cioè nell'ultima puntata nell'ultima puntata citano questa cosa effettivamente ma non c'entra niente col discorso hanno detto ufficialmente sia Marra che Fedez che non andrà avanti Muschio Selvaggio perché era un casino col fattore col casino legale con Luis Sal grazie Gerla grazie Gerlando non si sa se faranno un nuovo un nuovo un nuovo podcast potrebbe essere anche perché stavano andando abbastanza bene Muschio Selvaggio Marra c'ha il Cerbero comunque quindi non si sa vi farò sapere vi faremo sapere andiamo avanti poi con la sensualità su Vanity Fair degli Oscar fanno vedere tutti i nude look e varie altre cose e sì c'era Emily Ratatosky che aveva effettivamente una tetta di fuori cioè io non so come da varie augurazioni non gli si vedesse il capezzolo perché è impossibile Emily Ratatosky si chiama così Emily Ratatosky Ratajkowski Ratajkowski sì Ratajkowski devo scrivere bravissima a tenere delle angolazioni sì perché aveva questo vestito che andava sulla sinistra quindi se uno si girava in una certa prospettiva e un seno era per forza nudo magari c'era una tecnica degli stilisti e poi ovviamente ha fatto anche ci hanno fatto vedere anche il look un pochino nude di Vanessa Huggins che era incinta tra l'altro un bel twist poi abbiamo Valentino questa non mi ricordo se l'avevo già letta comunque c'era Valentino Rossi con la sua compagna un party per la figlia non so se l'avevo letta va bene schippa easy e andiamo poi ai due momenti a Marcordi il primo è il duetto di Giovanotti e Vanessa Incontrada a Zelig del 2008 ovviamente non ho dato play a questa cosa per sicurezza e poi abbiamo Ila Bush credo cantano Sweet Dreams non mi ricordo mai come si dice cantano Sweet Dreams al Festival Bard del 94 naturalmente Sweet Dreams la conoscete benissimo e a quel tempo tra l'altro c'erano Amadeus con Federica Panicucci a condurre quell'edizione lì quando il Festival Bar era proprio a pieno regime regime? ha detto regime e andiamo alla Guess the Game sì questo qui è un Drugs e cose Little Company ciao ragazzi non so non mi sembra a me ricordava in realtà un pochino sì un pochino non lo ricordo però non no è troppo luce strana non è proprio così mi ha ricordato anche la mappa non so come spiegarvela quella di Rainbow Six non è Rainbow Six ovviamente ma poi non è Rainbow Six a parte che l'ha già uscito potrebbe essere qualcosa di Ubisoft però magari visto come l'ha ricordato non lo so tipo un Ghost Recon no guardate che questo è trumfatissimo eh beh Ghost Recon potrebbe essere comunque di no io salterei la prima tanto no no ma l'istos crotocol non esiste metto Deathloop no non credo però ah Metacritic 86 allora mirino quel mirino sai che è un mio nuovo non è un mirino però no è l'obiettivo di una missione o di un appiglio sì forse è più l'obiettivo della missione c'è un appiglio sopra anche credo no non credo sia un viso quel quadrato quel rombo ma è un mirino credo che quello lì sia l'obiettivo della missione no 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 in basso c'è in basso c'è il mirino dell'arma credo credo c'è il mirino dell'arma o del personaggio comunque quello in basso a sinistra con le due parentesi lì quello lì è un mirino di un'arma anche all'inizio pensavo fosse il focus di un appiglio volendo tipo di un rampino no ma quello sopra sì quello sopra sì quello sotto secondo me è il mirino quello lì è anche secondo me l'appiglio di un rampino esatto un obiettivo comunque quello in basso secondo me è un obiettivo della missione basta sì vabbè comunque in basso a sinistra invece è proprio un mirino di un personaggio però il mirino è stortato cioè è lì no no ma perché noi non vediamo la parte centrale secondo me hanno zoomato anche qui secondo me quella lì è un'arma è il mirino di un'arma o di un qualcosa con le due parentesi lì ma non lo so mi sembra come dimensione mi sembra quella senza zoom in realtà cioè cosa cioè non ma non avrebbe senso che tutto a sinistra cioè a meno che non corre con l'arma però non credo che si sposti il mirino ma infatti non è il mirino secondo me sono due parentesi così a caso cosa sono per forza il mirino uno slot dell'HUD uno slot di qualcosa può essere eh ma non c'è niente dentro non sono numeri scritte sono solo due parentesi ho pensato a un mirino grande tipo di un pompa ma poi è anche un po' storto quindi è una cosa che si muove ma grande ma se poi dei zoom di Marco viene un mirino microscopico quello lì cioè quello che dico non può essere un mirino o magari non è cioè non è uno zoom si indica non è uno zoom ma la Caudì non può essere quello lì Assassin's Creed Syndicate no non credo c'è un Assassin's Creed o sta roba Syndicate che roba è? a me sembra un indicatore di Wolfstein si è un mirino anche secondo me ragazzi già Wolfstein già ci posso credere di più un'ambientazione non era Syndicate Big Buffalo dice non è Wolfstein non è Wolfstein allora metti Wolfstein intanto vediamo se la saga è giusta ok sì è Wolfstein quindi è la quattro no comunque confermo le due parentesi sono il mirino di Wolf sì l'ho cercato sono due parentesi grandi così sono un po' scomodo magari al limite allora per alcune armi si allargano le parentesi o si stringono ma è sempre questo no è che era era in mezzo semplicemente era tagliata tutta la parte sinistra sì no ma infatti era semplicemente la foto spostata verso destra semplicemente ma perché cioè l'HUD con dentro niente mi sembrava strano cioè non c'è scritta non c'è deve essere uno slot vuoto momentaneamente non lo so avendo giocato me lo ricordavo voi se me l'avevi scritto vec ma no sì sì ma infatti per chi lo dice così subito è perché palesemente l'ha giocato io Wolfstein l'avevo visto tutto da gabbo non questo però quello primo vabbè clip termolè io finisce questa leadership inizio a bere ti giuro io inizio a bere sii house fripper no o sì è una musichetta strana house builder questo sì recente questa qui eh no non troppo no non è UK no non è vero non è vero sì hai ragione due anni fa ero ancora dei miei come fa oh halleluja Cagate Vabbè facciamo anche il Ce l'ho ancora Perché non c'è niente da fare Gamedle Accetto tutto C'è i miei tempi Allora Grand Auto 5 Tutto rosso Vabbè lo seguo da voi Allora per questo Gamedle abbiamo Saga sbagliata Prima o terza persona Non è Rockstar Non è Rage Il motore di gioco È chiaramente più nuovo del 2013 Non ha tutte queste modalità di gioco Metto Uncharted 4 Come al solito Giusto per capire anche solo la terza persona Ok è solo terza È più recente del 2016 Motore di gioco Non hanno il motore di gioco di Uncharted 4 Non si sa quale Allora Non è solo su PS4 Però è su PS4 In terza In terza Allora Forse Probabilmente è solo single player Sì Può darci A meno che non è un MMO Io l'attento È un action Sembrerebbe Se l'attento con Come si chiama l'MMO di Amazon New World New World Mi sembra E ma scusami Però hai detto che è single player Non c'è Ma hai detto che è single player Non c'è Secondo me è un Tomb Raider Più nuovo del 2016 Cos'è È uno degli ultimissimi Come si chiama Eh non lo so L'ultimo uscito di Tomb Raider Qual è A parte che no Non è più Naughty Dog Cioè non è Naughty Dog No non è mai stato Non è mai stato Eh Prova Eh non so quale serve E metti un Un single player Prima in chat Diciamo un Assassin's Creed Odyssey Prova Odyssey Syncred Odyssey Ci può stare come descrizione Eh L'anno è giusto No A Odyssey Forse l'anno E beh sì Oddio Non mi ricordo Però sì è in quel periodo Ok io ho messo Cos'è Syncred Odyssey Allora piattaforme tutte azzeccate Quindi Playstation PS4 PS5 È solo single player Terza persona Ok Più nuovo del 2018 Non è Non è Ubisoft Potrebbe essere Yakuza Cioè Like a Dragon No Perché No sì Sì può essere No aspetta Forse no Però Quali sono i generi Sia Old gen Sia l'attuale gen E Yakuza C'è C'è per old gen Non mi ricordo Quello di adesso Forse no Però il vecchio Sì Posso controllare Non vale se controllo Control Control mi ispira Control Però ha control Anche quello È il più nuovo del 2018 Control È del 2018 Però è Ostia è vero Control del 2018 Horizon Non è su Playstation E non è su Xbox Però era su old gen Quello Sì ma non è su Xbox Ah beh sì Like a Dragon Yakuza per old gen C'è Allora like a dragon Via Control del 2019 Quello Potrebbe essere Sì È uscito su PS4 Cosa Control dicono 2019 Prova control Prova control Vedi In caso Sì È effettivamente 2019 Però È uscito su Switch Quindi non conta Ah ok Ma forca miseria Però è più recente Nel 2019 Sì Like a dragon Anche secondo me È giusto Allora È sicuramente Un action Per forza Sì Sì c'è sempre action Marco quello che giocavi No 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 È più vecchio Coso Days Gone È un gioco recente Io ti ho detto Secondo me Like a dragon Ci sta Like a dragon Però il primo Sì No Yakuza Like a dragon Scusami L'altro Non è uscito No è 2020 E beh Tanto sono tutti e due Dopo il 2019 Quindi Provo a mettere Abbiamo azzeccato È tutto Ma quindi è quello nuovo Ma quello nuovo C'è anche per all gen No aspetta Potrebbe essere anche l'altro No Sì Però hanno detto che c'è No non è vero L'altro è del 2020 No 2020 era lì Era infinite wealth Ma scusa Non c'è anche per all gen Ma da quando È uscito Eh l'hanno detto prima in chat Ma che cavolata Poteva essere anche Isshin Forse Vero Non ci ho pensato minimamente A Isshin Perché non l'ho giocato Quindi Sì Non ti devo Isshin A dire per Isshin Ero sicuro fosse Ma Isshin È comunque un gioco vecchio Quindi bisogna vedere È di due anni fa Isshin No È del No l'hanno rifatto Ma era Ah no No Tendo la remastered Sì ma è la remastered Non so Credo che comunque Venga assegnata 2021 Se la segni Sì no Perché c'è la doppia Scelta Guardate che Non c'era Cioè non c'era Nessun altro Lyka Dragon Quindi Io ne ho visti due Quando hai scritto Eh erano un po' vecchio E questo Cioè esatto Gli ultimi due Quelli Lyka Dragon E Lyka Dragon Non c'era neanche Gaiden Non c'era No infatti Bene Gioco più bello del mondo Possiamo Tappare il buco E E Ciao Fia Foffa Grazie Fia Foffa Grazie mille Dopo tutto questo tempo Sempre Morto Moro ragazzi Va resuscitato Con le sfere del drago Via Sì La proie un shroud Mia sigla proprio Oddio